Benvenuti, siamo nella giornata mondiale ONU delle donne e ragazze della scienza, una giornata particolarmente significativa per noi perché nelle Marche, su quattro Atenei marchigiani, abbiamo nell'anno di immatricolazione 2018-2019 iscritte oltre 6.500 donne in più rispetto ai colleghi uomini e iscritte prevalentemente in materie umanistiche. Pertanto questi numeri impongono assolutamente una riflessione per valutare come coinvolgere e sensibilizzare una maggiore partecipazione dell'universo femminile nella scienza e nel mondo delle cosiddette materie STEM, in quanto sfera molto più ampia della sola scienza, allargandosi a tecnologia, ingegneria e matematica. Una contaminazione di cui l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è senza dubbio un simbolo di assoluta eccellenza e anche di ispirazione e motivazionale. Per questo sono particolarmente lieta di dare il benvenuto alla dottoressa Ersilia Baudo, Chief Diversity Officer dell'ESA, appunto dell'Agenzia Spaziale Europea, che mi onoro di conoscere e di aver avuto già testimonial nelle due edizioni della Settimana dello Spazio 2019-2020, organizzate, ospitate dal Comune di Osimo e con il patrocinio dell'ESA, della Regione Marche, dell'ASI, dell'INAF, dell'INFN, del Parlamento Europeo, Fondazione Chialini. Grazie davvero dottoressa Ersilia Baudo per questa sua disponibilità. Le affidiamo ad una sua riflessione le indicazioni che vorrà darci su come incoraggiare le ragazze ad avvicinarsi alle materie STEM e che anche che azioni possono essere svolte a livello locale da piccole amministrazioni comunali ad amministrazione regionale proprio per accompagnare, fin dalle bambine, fin dalla giovanissima età, allo studio delle materie STEM. Oggi siamo qui ospitati dall'Agenzia di Comunicazione X Place, all'interno della quale in co-working c'è una start-up che si occupa appunto di didattica digitale e che ha già partecipato anche ai bandi del Ministero Pari Opportunità dedicati proprio alle STEM. Per questo ci sembra di essere il luogo, diciamo così, ideale, sia fisico che virtuale, qui denominato Osimo Lab, per davvero ospitare questa sua riflessione a cui davvero dobbiamo e per la quale la ringraziamo molto. Grazie Ersilia, a lei la parola. Grazie Frida, sono sempre molto contenta di partecipare alle iniziative che proponi perché trovo siano sempre momenti di approfondimento, di scambio e tutti torniamo a casa con qualcosa in più. Quindi sono sempre molto contenta di partecipare. Il tema è un tema che sicuramente mi è molto caro e vorrei appunto cominciare perché si parla molto di donne STEM, si parla molto dell'importanza delle materie scientifiche e si ha quasi un senso che effettivamente si vada nella direzione giusta. Invece se si vedono i dati del World Economic Forum del 2020 i dati ci dicono che per raggiungere l'uguaglianza economica di genere bisognerà aspettare 257 anni e non è tanto questo il dato impressionante per sé, comunque è impressionante il fatto che l'anno precedente lo stesso World Economic Forum diceva che ce ne sarebbero voluti solo, solo, ovviamente tra virgolette, 212. Quindi non solo non si progredisce, non solo è lenta la progressione, al contrario si regredisce, si regredisce anche con una velocità piuttosto alta. e al cuore delle ragioni di questa regressione, quindi di perché non si va avanti nell'uguaglianza di genere, il World Economic Forum identifica proprio l'assenza o la scarsa presenza di donne e ragazze nelle materie STEM. Perché? Perché sono proprio queste materie che hanno il più grande potenziale come si dice in inglese di empowerment, parola che non ha un equivalente italiano altrettanto forte, non è emancipazione, è qualcosa di più, è proprio avere diciamo in mano la propria vita, il proprio futuro, sono le materie STEM più alto contenuto di empowerment. Perché? Innanzitutto perché sono più della metà delle professioni del 2030 non esistono ancora e richiederanno competenze STEM. Sono le aree a più grande tasso occupazionale, sono le aree a più grande progressione salariale, c'è una corrispondenza chiara tra salario, orario e competenze in matematica per esempio. E sono appunto quei luoghi dove si può immaginare e si può rendere possibile il futuro. Quindi c'è una possibilità di indipendenza economica, finanziaria, appunto di empowerment grande e allo stesso tempo appunto anche la prospettiva di far parte, di partecipare alla definizione, all'immaginarsi il mondo di domani. Pensiamo per esempio quanto l'intelligenza artificiale, i big data che fondamentalmente si basano sul passato, tendono a riprodurre dei modelli e dei comportamenti che sono dei modelli e dei comportamenti che invece desideriamo superare. Gli algoritmi di domani, se ci sono poche donne nel mondo del digitale, saranno comunque sempre pensate in una prospettiva che non tiene conto del punto di vista femminile. Quindi c'è proprio una, ripeto, una possibilità concreta di far parte del futuro che è molto forte e che è appunto uno degli elementi che può in qualche modo far ribaltare questa distanza crescente tra gli uomini e le donne. Ora, la cosa interessante è che nei paesi per esempio dove c'è la più grande uguaglianza di genere, pensiamo ai paesi nordici, Svezia, Finlandia, Norvegia, abbiamo anche il più basso numero di ragazze che scelgono le materie STEM, mentre i paesi che hanno una ben minore uguaglianza di genere, pensiamo agli Emirati, pensiamo a Tunisia, Turchia, Algeria, paesi orientali, l'India, l'Indonesia, abbiamo tantissime ragazze che invece scelgono questi percorsi. La cosa sembra strana, è effettivamente quasi un paradosso, anche perché noi insistiamo molto sul fatto che i role models e gli stereotipi sono tra le ragioni per cui le ragazze non scelgono le materie STEM, ma sicuramente è difficile spiegare il fatto che appunto in Algeria ci siano molte ragazze che fanno vedere STEM sulla base di stereotipi e role model che sicuramente non sono migliori di quelli che possiamo offrire noi in Europa. C'è quindi probabilmente quello che dicevamo prima, c'è questa consapevolezza da parte delle ragazze in paesi dove la parità di genere è qualcosa da conquistarsi, da conquistarsi attivamente, impegnandosi attivamente, che questi cammini, questi percorsi, queste materie sono delle materie che rendono veramente possibile prendere in mano, come dicevo prima, il proprio futuro. Per esempio, questo tra pochi giorni arriverà, questo lo vediamo molto nell'ambito spaziale, arriverà su Marte la prima sonda degli Emirati, Hope, e sarà molto interessante appunto vedere comunque le immagini già a lancio, si sono viste, lancio ad aprile, cioè le equip di scienziati e ingegneri sono delle equip molto bilanciate da un punto di vista gender e non perché si ha voglia di essere politicamente corretti, ma perché c'è appunto una vera condivisione di ruoli e c'è una vera partecipazione, una grossa partecipazione di donne in questi settori. Ora, questa è una cosa che rimane comunque sicuramente una tematica molto forte, quella di in che modo invertire questa tendenza, anche perché bisogna dire che c'è stata una rivoluzione rispetto al progresso delle donne e questa rivoluzione è il fatto che già da molti anni nei paesi Ocse sono molto di più le donne, le ragazze che si laureano che i ragazzi, quindi c'è stata un'inversione nel senso proprio di rispetto all'educazione rispetto alla formazione che è avvenuta. Sul mercato del lavoro ci sono molte più ragazze che arrivano formate con un background universitario di ragazzi, però una volta uscite dall'università si vede che c'è una lenta perdita di talenti, trovano meno facilmente lavoro, hanno carriere molto più lente e soprattutto sono molto meno rappresentate nei ruoli apicali. In Italia, e quindi diciamo rimane il fatto che pur essendo molto di più le ragazze che si laureano, la stessa cosa è valida anche in Italia, sono ancora poche quelle che prendono le materie STEM e quando si parla di materie STEM bisogna pensare che il problema non è tanto nelle materie quali biologia o medicina, dove invece la partecipazione è sicuramente soddisfacente, ma si tratta proprio di un'assenza nella tecnologia, nell'ingegneria, nella matematica, nella fisica, quindi nella parte più dura, ma anche nella parte che io sono molto convinta che ci sia anche un elemento legato al fatto che queste sono materie che hanno anche una grossa intensità di conoscenze matematiche. L'esclusione della matematica che in realtà avviene molto presto, cioè dobbiamo pensare che l'identità STEM nei bambini si formasse in e quindi si tratta di un'attività che la matematica che la matematica crea. Per una serie di situazioni che non si tratta di un'attività che non si tratta di un'attività che non si tratta di un'attività e le bambine si identificano molto di più con le maestre dei maschietti, è perché a casa ancora spesso succede che la bambina ma anche il bambino viene molto presto. Quindi c'è un importante volume che si tratta di un'attività che non si tratta di un'attività che non gli esiste essere più o meno portati per la matematica, è quanto viene nutrita la e l'amore per la matematica come linguaggio, come linguaggio per capire appunto l'universo, come linguaggio del futuro delle STEM. Ressino fuori dalla matematica. Il tema democratico dove comunque anche dal classico uno può scegliere di fare fisica, rimane il fatto che poi è troppo tardi, cioè le pari opportunità si giocano anche con la possibilità di poter scegliere, davvero poter scegliere di essere un poeta o di essere un astrofisico e non invece di non poter più essere un astrofisico perché già dalle scuole medie ci si è convinti di non essere portati per la matematica e quindi che è molto meglio invece fare un'altra cosa. Ecco, questo è uno degli elementi più importanti e lo dico anche rispetto se ci sono appunto genitori, cioè di nutrire da subito nei bambini e nelle bambine che tendono ad essere più perfezioniste, più sensibili alle critiche, nutrire invece proprio questo piacere nel fare domande, nel non fermarsi alle prime risposte, nel non considerare l'errore come qualcosa che debba essere diciamo punito o comunque una mancanza, ma considerare sempre l'errore come una vera opportunità per imparare di più e imparare meglio. Guardiamo cosa fa Elon Musk ogni volta che fallisce una sua cosa nuova e la sua narrativa è quella di dire se ho fallito a fare questa cosa è perché ho provato a fare qualcosa di nuovo, ho provato a fare qualcosa di diverso ed è questo lo spirito, cioè lo spirito proprio del coraggio di andare dove non si è ancora andati e anche il rischio di sbagliare per costruire su questo sbaglio. Quindi il tema della scienza e delle STEM non è solo un tema economico, non è solo ah ok mi hai convinto faccio STEM così guadagno di più, no è legato come dicevo all'opportunità di contribuire al futuro e alle sfide del futuro, il cambiamento climatico, la povertà, l'energia, la pace sono tutti obiettivi che saranno sempre più importanti per la nostra umanità e che possono avere un su cui le materie STEM possono avere un impatto estremamente forte, molto più potente che passando attraverso altri percorsi, quindi ci permette di avere un impatto sulle sfide di domani e le STEM, soprattutto la scienza, io poi parlo da astrofisica, sono anche un'occasione unica di uscire dalla zona di conforto della nostra esperienza, di essere esposti a delle cose che ci possono sembrare impossibili e invece sono reali, ci dà dei superpoteri, vi faccio un esempio, quando guardate il cielo la sera e vedete quei puntini, quelle stelle, quelle stelle e guardate quelle stelle con accanto il vostro compagno di banco, la vostra compagna di banco, il vostro compagno di banco è lì con voi in quel momento, sta condividendo il vostro presente, ma tutti quei puntini che state guardando sono momenti di passato, sono cose che già non esistono più, sono stelle che, è la foto di una stella come era prima ancora che si costruisse il Colosseo, quindi è questo perché la velocità della luce ci mette tempo a viaggiare, quindi più una cosa è lontana nello spazio, più guardiamo lontani nello spazio e nel cielo, più stiamo guardando indietro nel tempo, persino un tramonto significa guardare indietro nel tempo, perché quella luce lì non c'è già più da otto minuti, quel sole lì che sta, quel sole rosso, quindi la scienza, e posso farvi tantissimi esempi di meraviglia, di sentirsi magari anche piccoli in un universo immenso, indifferenti a noi, ma questo ci dà la potenza di sapere che questo universo è indifferenti a noi, noi siamo qui capaci di fare domande e cercare risposte, addirittura capaci di vedere con i nostri telescopi galassie che esistevano molto prima che noi esistessimo noi per guardarle, quindi è un'avventura straordinaria, un'avventura che vi trasforma, anche se poi uno possa decidere di fare altro, è un'esperienza straordinaria, quella della fisica sicuramente dell'astrofisica, ma comunque della scienza, la scienza significa cercare di andare dove non si è ancora già stati e questo di per sé dà senso a noi e dà senso a noi in questo universo, quindi bambini e bambine, ragazzi e ragazze considerate questi, i percorsi STEM come dei percorsi non solo per quelli portati, non come cose difficili, non come cose che, come posso dire, appunto troppo tecniche, non è questo, c'è tanto umanismo nelle materie scientifiche, pensiamo a Leonardo, abbiamo festeggiato da poco i suoi 500 anni di Leonardo, quindi vi incoraggio e vi assicuro che poi non sarete più gli stessi. Grazie. Ah, ci tengo a dire una cosa molto importante e il motivo per cui anche sono stata molto felice di partecipare a questo evento oggi. Vi dicevo prima che viene considerato appunto molto importante o comunque tra le ragioni per cui ci sono poche ragazze che scelgono le materie scientifiche il fatto che non ci siano role models o che ci siano gli stereotipi. Ecco, la cosa più importante in un bambino in realtà non è tanto il role model lì giù, lontano, anche quello è importante, ma la cosa che conta è quanto l'ambiente intorno a te riesca a stimolarti, e quanto i role models di prossimità riescano a permetterti di identificarti e di proiettarti in avanti. Per i bambini e per i ragazzi la cosa più importante è riuscire a proiettarsi in avanti, riuscire a immaginarsi e perché questo succeda, quello che conta di più sono gli stimoli che hanno in prossimità e quindi dalle realtà locali, dalle realtà che sono organizzazioni, che è la scuola, che è tutto il lavoro che la dottorissa Paolella cerca di fare, cioè riportare questa energia. è lì che nascono le scintille, discorsi di persone lontane, discorsi fatti da un'altra parte ci toccano relativamente, ma quando è la realtà intorno a noi che si attiva, che comincia in qualche modo a far nascere piccole scintille e in questo caso tutto il lavoro che si cerca di fare, che cerca di fare, che cercano di fare le regioni marche, portando lo spazio, lo spazio è uno dei potenziali di ispirazione. Ecco questo vuol dire seminare, vuol dire seminare, maggiore. il regalo più grande da fare ai ragazzi. La parola desiderio viene da desidera essere lontani molto di più di tanti discorsi teorici o come dice mia figlia che fa matematica sembra che noi diciamo in qualche modo facciamo sempre discorsi ma come ragazze ma lo volete capire quanto è bello fare scienza? no, non è ragazze svegliatevi dovete capire questo o quell'altro non è quello il discorso il discorso è avere voglia di appunto riprendere il proprio futuro in mano proiettarsi in avanti desiderare per se stessi sempre qualcosa di più sempre qualcosa di meglio ed è questo che offre la scienza grazie a cui avevo chiesto un intiverto motivo nel proseguire in questi percorsi di attività a livello locale grazie Ersilia davvero per aver evidenziato il potere trasversale della scienza anche nel raggiungimento dei 17 obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile ha citato prima l'importanza della scienza nei cambiamenti climatici tutte queste tematiche che sono appunto sfide globali sulle quali dobbiamo sensibilizzare le giovanissime generazioni perché qui stiamo parlando di Agenda 2030 e quindi ci rivolgiamo ai ragazzi di oggi che saranno la futura classe dirigente di domani del 2030 quindi Ersilia davvero grazie grazie di cuore per questa disponibilità per le parole di stimolo di incoraggiamento di conforto e di anche spinta a continuare su questo percorso perché per noi le scienze spaziali sono assolutamente trasversali anche a comprendere appunto le sfide globali non a caso l'UNOSA o comunque l'osservazione della Stazione Spaziale Internazionale sui dati che riguardano lo studio della Terra consentono appunto di monitorare certi fenomeni per cui proseguiamo su questa tematica trasversale appunto alle materie stemme ha citato prima Leonardo l'umanesimo ecco mi piace ricordare che le marche sono state anche culla dell'umanesimo matematico con Urbino quindi questa contaminazione scienza umanesimo per questo territorio è assolutamente fondamentale anche da un punto di vista storico ai tempi della corte di Federico da Montefeltro ecco un umanesimo e un rinascimento forse meno conosciuto rispetto a quello di Roma e di Firenze però senza dubbio evocativo appunto della contaminazione dell'importanza tra scienza umanesimo in qualche modo anche rappresentato da Raffaello Urbinate che nella sua scuola di Atene con Ipazia rappresenta appunto questa forte contaminazione tra umanesimo e scienza grazie Ercilia grazie davvero di cuore grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi